Nel 2016 riuscì a coronare il sogno di incontrare il suo idolo Leo Messi dopo aver indossato una maglia dell'argentino realizzata con una busta di plastica. Ora Murtaz Akmah di sette anni sta vivendo un incubo al pari di migliaia di afghani sfollati a causa della guerra ed insieme alla famiglia è stato costretto a scappare dalla propria casa nella provincia sudorientale di Ghazni. Non so perché i talibani siano diventati i suoi nemici dopo la notorietà, dicono che se lo cattureranno sarà fatto a pezzi. Nel ricordo dell'incontro in Qatar durante il quale Murtaz, ora rifugiato a Kabul, riuscì a scendere in campo con Messi, la famiglia vive segregata nella paura sopravvivendo solo grazie agli aiuti umanitari. Per questo il piccolo Messi rivolge un appello al calciatore che confida di poter presto rivedere.